Allora signori, siamo a Bastogne, un saluto dalla RCT Aschi43, no in realtà non è Bastogne, poi siamo in Sicilia, Siracusa sul livello del mare e sta nevicando, per la prima volta almeno io da quando ho memoria io, quindi 27 anni fa sono nato, non ho mai visto la neve a Siracusa, mi sono svegliato ora, ho gli occhi che sembra un tossico drogato che si è sparato otto cannoni, però per la prima volta c'è la neve. E allora ragazzi io ne approfitto intanto per parlare del mio nuovo acquisto della RCT Aschi43, del mio cappottone in inverno, si chiama Overcoat dell'esercito degli Stati Uniti, era stato usato per, diciamo, era usato dalla truppa, diciamo essenzialmente, perché gli ufficiali usavano un altro tipo di cappotto più corto, adesso non so perfettamente la pronuncia ma è quello che si chiama il Machinau, è un po' più piccolo, un po' più comodo, questo qui però è molto più lungo e soprattutto più caldo, perché io sotto ragazzi mi sono svegliato dieci minuti fa, perché ho visto la neve in Sicilia, mi sono svegliato dieci minuti fa e non c'era, tra l'altro sta accadendo in modo, ho preso, sono sotto col pigiama, ho preso il cappottone, l'unica cosa calda che c'era in tutta la mia stanza e sono uscito fuori, signori qua fino a dicembre, inizio dicembre c'erano 20 gradi, adesso ci saranno meno uno, meno due, un freddo allucinante, ma col cappottone sto bene, quindi vaffanculo non sono andato a Bastogne, minchia ma Bastogne è venuta qua in Sicilia lei ripresa la mia macchina tutta piena di neve, ma che cazzo, ma qua siamo un po' ziti, disegnaci la minchia, papà, come mamma? la mia macchina tutta piena di neve la ahhh, minchia ma bella, aspetta! ahhh, aspetta, 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 attacchami i tedeschi! ahhh, lasme... ciao mamma! ah sono la sopra, aspetta, andiamo a prendere, andiamo a prendere, Stacchiamo la vita da